Buonasera dal Tg della Mobilità. Terminati i lavori sulla via Flamine all'altezza dell'innesto con il raccordo anulare tra i chilometri 11,700 e 11,200. Eliminati i restringimenti della carreggiata dovuti al cantiere, la viabilità è tornata regolare. Le altre notizie questa sera nell'area centrale della città chiuse tutte le zone a traffico limitato, varchi attivi dalle 23 alle 3 agli ingressi di centro Tridente, Trastevere, San Lorenzo e Testaccio. Le notizie sul trasporto pubblico tornerà sui binari il prossimo 18 dicembre, la linea tramviaria 2 l'ho anticipato oggi, il sindaco Roberto Gualtieri illustrando all'Assemblea Capitolina la delibera sui programmi dell'amministrazione in tema di trasporti. Si punta sulla cura del ferro senza tralasciare la cosiddetta mobilità dolce e nel frattempo sono stati sbloccati 100 nuovi bus per la rete Atac. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.